Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui con un nuovo episodio dei Summer Potential Transfer Prima di iniziare però volevo chiarire un attimo una cosa Molti di voi mi hanno detto di fare come l'anno scorso Cioè parlare dei giocatori e mettere la prediction delle statistiche dei giocatori che saranno in FIFA 16 Però non lo farò fino a quando il grafico SPAC non rilascerà il suo design per le carte di FIFA 16 E da quel momento allora questa serie comincerà ad avere anche le prediction delle carte per FIFA 16 Dei giocatori che tratteranno per i vari trasferimenti Quindi partiamo subito con lasciare un bel like ovviamente Come sempre un bel 300 mi piace ci sta proprio a bestia E commentatemi con i giocatori che vorreste che io tratti successivamente Partiamo dai tre giocatori di oggi Tre giocatori, due legati in entrata alla serie A e uno in uscita E cominciamo subito con Miranda Perché come sapete Miranda è da praticamente un bel po' di giorni che se ne sta parlando Mezza serie A praticamente è su Miranda Però oggi parliamo dell'Inter Perché da quanto si evince nell'ultime ore Miranda è vicinissimo all'Inter È proprio a un passo dall'Inter Che dovrebbe pagarlo circa 12 milioni e mezzo Più due di bonus Quindi alla fine andrebbe a costare circa 15 milioni Ma dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto È una cifra un po' alta Considerando il fatto che il giocatore ha quasi 31 anni Li compierà tra poco, penso, 31 anni E quindi spendere una cifra così ampia Più ovviamente anche l'ingaggio È difficile per un 31enne Però bisogna comunque considerare che Miranda è uno dei migliori nel suo ruolo Tuttora a 30 anni È comunque uno dei migliori centrali che ci sono in Europa E insieme a Godina ha sempre fatto una coppia veramente incredibile di centrali Molto molto forte all'Atletico Madrid Bisognerà poi vedere come l'Atletico A parte che vabbè c'ha Jimenez che è molto forte E molto giovane Come si preparerà Come lo sostituirà a Miranda Comunque parliamo del secondo giocatore di questo episodio Un altro giocatore che comunque è stato Negli ultimi giorni Trattato da tantissime squadre Stiamo parlando di Carlos Bacca Neolaureato campione d'Europa L'Europa League ovviamente Con il Siviglia Grande attaccante Probabilmente Cioè probabilmente Lo sta trattando in questo momento la Roma La Roma che dopo diversi nomi che sono usciti in questi giorni Tra cui quello di Dzeko Che comunque Sembra essere una trattativa abbastanza difficile Privia dei costi Lo è anche questa Quella per Bacca Però si sta trattando con i dirigenti Eccetera eccetera Delle varie squadre E Bacca L'uomo Probabilmente l'uomo ideale per Rifondare l'attacco della Roma Gervigno Non so se è già ufficiale O comunque sia Andrà via Anche per un bel po' di soldi Sappiamo che Il problema principale della Roma Offensivamente parlando Era che mancava la punta Che faceva gol E Bacca Potrebbe Anzi Sarà sicuramente Se arriverà a Roma Il giocatore che potrebbe Raddrizzare le cose Potrebbe aggiustare il tutto Però Però C'è sempre il problema economico Bacca è un giocatore che Già lui di ingaggio Prende molto In più Dovrebbe avere una clausola Rescissoria Di circa 30 milioni E sotto di quello Non si può andare Quindi Sarebbe un colpo Economicamente parlando Importantissimo Comunque Vedremo nei prossimi giorni Nuovi aggiornamenti Perché comunque Anche qui stiamo parlando Di uno dei migliori centravanti Presenti in Europa Probabilmente Mentre Andiamo con il terzo giocatore Giocatore in uscita Come vi stavo dicendo Cioè Carlitos Tevez Che Ormai Sembra che il suo futuro Sia deciso Lascerà Probabilmente Anzi quasi sicuramente La Juventus Per andare Al Boca Comunque In Argentina Per concludere La sua carriera Ultimamente In questi ultimi giorni Si era parlato Di un possibile approdo In squadre come Per esempio Atletico Madrid O soprattutto Paris Saint Germain Però Nessuna di queste mete Sarà contentata Dal giocatore Che dovrebbe tornare Appunto in Argentina Non andrà gratis Perché non sarebbe Neanche giusto Lui ha ancora Un anno di contratto Con la Juve Quindi il Boca Dovrebbe pagarlo Ancora Non si sanno cifre Niente Però si sapranno Successivamente Io però penso Che questa Sia Un colpo Un colpo Veramente molto duro Per la Juventus Per il semplice motivo Che Tevez È probabilmente Il migliore giocatore Che ha O comunque Il miglior attaccante In rosa Ed è stato il giocatore Che gli ha permesso Alla Juventus Di fare Quel salto di qualità Che magari Non avrebbe fatto Se Non ci fosse stato Tevez Ha risolto Tanti problemi Quest'anno Tevez E quindi La sua assenza Potrebbe essere grave L'anno prossimo È vero Che ha preso Di Bala È vero Che c'è comunque Morata Llorente Andrà via È vero Che probabilmente Potrebbe arrivare Mandzukic Che si sta trattando In queste ore In questi giorni Però Secondo me È impossibile Sostituire Tevez Con questi giocatori E quindi Probabilmente La potenza Della Juve L'anno prossimo Sarà un tantino Inferiore Comunque Si sta parlando Anche di Eventuali rinforzi Come per esempio Cavani Del Paris Saint Germain Che potrebbe essere Un grosso colpo Per la Juventus Comunque Come ho detto prima Si vedrà tutto Nelle prossime ore Nei prossimi giorni Per capire un po' Come si evolverà Questo mercato Comunque raga Come sempre Io vi invito A lasciare un bel like A 300 mi piace Uscirà un nuovo video Vi iscrivetevi Al mio canale Pagina Facebook Twitter Instagram Tutti i link Come sempre In descrizione E ovviamente Poi commentate Scrivendomi Cosa ne pensate Di questi trasferimenti E soprattutto Consigliatemi Qualche Appunto Rumor Di mercato Che avete sentito In questi giorni Noi ci vediamo Ragazzi Al prossimo video Bella raga Ciao